Perchè sei stronz? Ah si è aggiornato Discord, capo. Daredevil mi ricorda la Corvette. Ah l'hai sbloccata? No, sto vedendo anche il kickstop, sono ancora ben lontano da quella purtroppo. Potresti farmarti con l'hug switch le vittorie là che ti servono per la champion eccetera. Esatto. Ma credo che tanto con quello che ho finisco sempre solo con la vecchia di qualcuno che fa qualche botta che fa i giri rigiri che rende tutto un po'. Supa F, ci sono beh dove? Ah però eventualmente senza cosa che non mi dà un cazzo di punti però eh. Senza io. Io devo nonare fortissimo. La gente odia l'autoscontro. Poteva non fare l'email. Certo. Certo. Sì non si nega. Imma ho. Imma ho. Ah no, sto giro è la vendita a la PS4, beh che la PS4 è tipo ultraloud. oh no la S è morta il mio lap è top è un caso dell'adesivo sto cercando la forza del memaggio mi manca solo da trovare un adesivo che mi sputtani proprio questa cosa e dico sputtana perchè per qualche motivo l'adesivo finisce in un posto in quanto bizzarro per una delle calconomie del veicolo che sto vivendo legistimo io invece la Daredevil ce l'ho ma mi manca la decalcomanie dorata e quindi col cazzo che la uso senza il 70% ma questo è il memaggio madonna voglio dire quella decalcomanie esiste unicamente per corte quello è vero quello è vero ti devo dare ragione il colore ci sta il metal con il suo con il suo coso lì il furgone c'è la cosa mi sembra sui tutti ok quello di Von Clutch no? si però quello di Metti Metti che comunque è sbagliato perchè va a coprire uno degli occhi non ce n'è nessuno che possa eh già vaffanculo ho fatto questo poker poker posso avviare? ok è ripartita dentro vaffanculo allora non ti avvio più bastardo e adesso non potevo utilizzarlo sto cazzo del... sto cazzo sto cazzo del pressurizzatore perchè è poco fa blablabla per via della decalcomanie che mi mancava eh già e mo l'hai presa la pesadina l'ho presa quindi adesso c'è solo da PIA le decalcomanie un po' alla volta le faccio due madonna c'è questo rumore qua? eh sempre il pc evb no no il pressurizzatore ah lull vabbè non stiamo tanto lontani comunque si crede che abbia uno dei rumori peggiori per un motore di un kart distrutto sto gioco no ma quella faccia di cortex comunque resta imbattibile resta imbattibile c'è un cazzo da fa' quanto cazzo amo le chiamare sto coso paparaparapapam paparapapam 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 piacerebbe utilizzarlo con clucce però c'è il discorso dei... dei punti che non capisco per quale cazzo di motivo hanno voluto fa fa' merdata che sono imbecilli a questo punto se devono alzare la percentuale la potessero pure da quei personaggi in la esatto tre personaggi nuovi e non ne puoi utilizzar nessuno nemmeno uno perchè è penalizzato con i punti ma certo la logica suggerisce questo no? io ieri ho dovuto fare attenzione alle auto che usavo per le sfide del matchmaking perchè ho dovuto fa' ho dovuto prima sbloccarmi a Daredevil e poi utilizzarla come seconda delle tre auto nuove e lasciare per ultimo il pressurizer esatto altrimenti avrei perso le meme altrimenti avrei perso dei punti ma certo il rumba oh hellie oh hellie sto gioco ecco non finisce mai di regalare emozioni mi fa bene l'acido in così poco tempo in idea grazie tre non ti ho preso per niente ma ok diciamo che mi credo cos'è una bell'idea che la decalcon... no la decalcon... no la decalcon... il paint job legno esista unicamente per l'organ drying dovrei vedere come ci sta non l'ho ancora visto io mi sono scordato ma... voglio dire un organo c'ha a parti in legno quindi... ha solo senso metterlo la anche se probabilmente il colore riuscirà a desiderare allo stesso tempo tre minuti tre minuti tre minuti bel meme spenditi i nuovi giocattoli eh sono state tutte le auto nuove? no strano cioè la Daredevil manco ce l'ho ancora comunque si faccia usciaglia non mi ricordo qual è sta cosa dei nuovi giocattoli allora non lo so forse ho capito ancora devo usare un'auto totalmente personalizzata ah può essere può essere può essere ok perfetto ok perfetto si ancora vuole fare la merda delle scorciatoie di parco con le storie bel meme indeed ti fa aspettare il modo in cui guida cosa con clutch eh si è messo in quel modo un piede appoggiato un po' più o meno sul sedile con una sola mano guida con l'altra tiene il megafono esatto è stupendo è assolutamente stupendo il best character bello a me praticamente è finito subito il bonus quindi posso pure farmi due giri e fermarmi che che completando due giri prendo comunque quello che prenderei facendone tre mi risparmio un po' di mi risparmio un po' di di forza mental si e poi aspetta 30 secondi perchè ma capirai che si fa 30 secondi è un po' il cazzo sto acquetti del dovuto e penso anche tu yeeeh oh mio dio ho fatto un mega salto mi piacerebbe riuscire a farlo più spesso con il mega salto il mega jump si ah si bello perdere il final run bello bello prendo tutti questi boostpads e poi datteli in faccia boostpads ok oggi ho guardato un video di Bricky che era riguardante il gioco di di Gundam che sta sullo store ahah non so ancora se può piacere o meno credi che non è nulla di speciale assolutamente 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 oh e non so come spiegare ed uno about dat ed uno non play invece è un classico meme pvp mi ha necessitato del cosa che ho visto era qualcosa tipo 3 contro 3 o 4 contro 4 non è non è particolare non è ok non è buono non è non è scaricando sto scaricando anche in questo caso mi gusta c'è un altro gioco che posso aspettare stammi lontano cos'è ignobile manco dovevo fermarmi in effetti eravamo giusto non è che non è che Sì Non ho pensato a fare un video riguardo a cose belle E rip Perché qua non c'è più modo da vederla così Si può vedere solamente sul foglio Eh già Quindi rip Supa F Mi pare di capire che coraggio è il mega mood Eh ma mi sta cagando il cazzo sta cazzo di Di ventola Mi fa preoccupare Merda Fino a ieri tutto a posto Oggi fa sta merda qua Ok che è da buttare però almeno fino a fine anno arriva c'è bastardo Il vero problema è che mi rompi il cazzo quando passavo Windows 10 onestamente Troppa merda troppo Troppa merda Cioè ce l'ho sul È meglio di vista in ogni caso Ce l'ho sul fisso e già mi ha glitchato la licenza mi dice La licenza sta per scadere quando vuole assolutamente così Guarda Guarda quello per me è colpa di chiunque abbia messo le mani su tutti i pc Esatto same Non ha senso Io l'ho comprato ho assemblato Cioè non assemblato e qualcuno me l'ha installato e ha fatto tutto per me Ho utilizzato una roba chiamata Spicola Come cazzo si chiama Per metà di radice Spico Km Spico E A quanto pare è un attivatore di licenze Quindi credo che abbia la licenza fasulla e Windows sta di No 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 Vai Moon Vai Moon E quindi c'è quel problema No ma presi il rumba Automaticamente anche i missili mi prendono Lol Ecco Ottimo a morti Esatto Oh ok Mi ha schiacciato a mezz'aria Non cosa proprio fosse possibile sta cosa Io possa Maronna Impossibru Ok al treno Eccoli Il basterdo fortunato Ah not really Qui Qui What about the John Shep Ah Warton John Cena Deve fare i cosi di Oberon Ah devo costruire Oberon Oberon Leblon Leblon o Blon Leblon Ok Riorre Non ho ancora per niente Cortez Le mao Non so come posso fare impazzire sta ventola Mi metto uno stream a 1080p E muore Così almeno Vaffan Muore anche la mia rete però Sti cazzi Non posso Stacqua sentirmi sto cosa Magari andandola A top speed Può se fix che lo so Qua da un Temporo di temperatura Della cpu Di Di 99 gradi Io ne se ne dico What the fuck are you saying Però K Qualità 1080p No 720p Questa non ha 1080p Rip E Vabbè E quindi Perché sta morendo la ventola Nice Bebe Se non riesce più a eliminare il Il calore Sta proprio a morire Se servirebbe Una di quei cosi Che fa attaccare Sotto Che c'hanno una ventola Le cazzo Loro Yee Che ci portatevi De la C'è la Abbastante Se vuoi che non troppa un cazzo Diventa tipo Un po' lente subito Quella fatta Roba che puoi tipo Cogerci un uovo Sopra Esattamente Beh Sto cosa ormai ha più problemi che altro Il jack delle cuffie Va in money Il mic Lo sentivi come faceva Ehm Lo schermo Inizia ad avere dei dead pixels Grossi quanto una casa LOL RIP Intanto Ho il bonus a me Ehm Sono comunque salvo dal treno Molto K Ah Gli iframes Gli iframes Gli iframes Gli hanno salvato il culo Ehm Non a te però Ehm RIP Qua c'è il fatto che il cappuccino Il cortex Resta fuori dalla bolla Beh Tutte le spalle di Kongo Di Tiny pure Come devo ancora provarlo Non so nemmeno se Bello con l'effetto di esplosione dello scudo Aspetta fammi capire una cosa qua Non è ancora lo stesso rumore fa RIP Dei dream Non è troppo bene Non è troppo bene No è troppo bene RIP Dei dream Windows 7 terminerà il suo supporto nel 2020 2020 let me press F on the smallest keyboard trovo esattamente per dire che è stato XP madonna 7 era vista ma ha fatto meglio ma ehh ehh il 10 invece è 7 ma con gli aggiornamenti che gli rallenta nel culo perchè su sto coso alcuni aggiornamenti li ho fatti ma non ne ha ancora regge quello è il meme temperatura 99 gradi, Yulai non è così caldo ho sentito molto più caldo a volte quindi i sensori su sta merda stanno flippando male ok nice meme cosa vuol dire ready file view status check for driver update check for bios update no non voglio cercare un cazzo design ed capacity 56.000 capacità attuale 20.000 della batteria le tipo stramorta di troppo dell'automobile una morte chiusa fuori fuori guarda fai fuori 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 giusto una pernacchia così geniale a me dovrai dire tu quando finisce chiaramente perché io vedo sempre 122 non vi ho ricordato è da un'occhiata guarda però non ci pensi e di conseguenza è mal not stonk si abbiamo un riferimento generale ce l'ho col timerino ma non è totale che poi per quella sfida degli anelli uno potrebbe usare il kart classico che succede però che non ha i punti massimi qualcosa quindi un bel meme per la sfida degli anelli c'è quello lì mi sembra più agile e again è solo probabilmente un effetto ottico però a me sembra più agile il pressurizer fai un po' tu lil in before permette di fare quella sfida all'istante nitro bumper io ho un tizio che cos'è il ctr farebbe una cassa dei punti quello della prova a tempo e c'è questa corte che c'è praticamente la testa dentro questa cassa e non è esplosa e allora se la mente ha dell'ickbox però io dico ma scusa eh quella devi controllare quello del kart e non quello del personale prima cosa esatto questo lo stesso discorso si applica all'organ grinder quel coso ha una larghezza incredibile e non spacca le casse tipo con la coda del kart ma che cazzo ma mi ha incastrato lì il gioco mi ha incastrato completamente senza farmi perdere il momento mi è stato strano c'è facendo no no just binox things stai per di ci pensi che il stressurizer è così è enorme però non è che c'ha le hitbox enormi perchè è enorme il stressurizer esatto diventa estremamente expanded ong mettendo il stressurizer e cong così qualunque cosa tocco viene massacrata subito seguendo il ragionamento del tizio grazie a cazzo esatto just binox things just any things just any things nil un po' un po' un po' un po' un po' un po' Ancora fanno film di Harry Potter Che coglione Dici in tv come produzione Cinema Ma non era finita la serie A molto pare no Mega Cup Peralmeno fino ad adesso non ho sentito Kurtz e Child Ah guarda dov'essere il fanmaid Non mi ricordo come si chiamava Non lo so guarda No giusto giusto è uscito Kurtz e Child D'hai ragione come libro era uscito e quindi Mostrano a far film Si vede che la Rowling ha bisogno di soldi Che non ha preso abbastanza Esatto Tra film, giochi, libri e quant'altro a quanto pare non si è fatta i miliardi da Baldrack Ma d'altronde va così no Soldo chiama altro soldo Sembra Ghiocan Stonks C'era un meme riguardo a questa cosa Quindi comunque che cazzo è successo Ci sta sta rivelazzi 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 Ma come ti permette di superare Faudare Faudare Yow Mangia la mia fervere Senti il clenching enorme proprio Nooo Cos perché d'ha fatto quella merda Perché d'ha Vabbè Di solito mi butto del lato Stavolta non l'ho fatta La prossima lo faccio Sto che deve fare sta cosa Sto deve fare simpaticone sto stronzo Un bel meme comunque Te butti troppo al centro devi avere il treno Te butti troppo telato Deve fare le spawn Bello meme Si Che Eh Esatto Esatto Nonostante il tempo pessimo Vabbè Le Vabbè Fettanta monede sti cazzi andrei a guardare il pit stop già il daredevil quante cose dorate c'ha? una sempre? una sola e la prendi dopo il daredevil quindi eh si bello meme esatto esatto lo scorso gp quella di wendis era quello p a sto giro tutti i 70 possiamo avere tranne quelli nuovi il che è tipo l'apice del meme se ci fai se ci pensi coi kart no coi kart puoi avere il 70% con tutti ma i personaggi a quanto pare no mi dico ma binox quando fa ste cazze? si esatto con tutti quelli che hanno il deal i kart fighi no che devi tirare fuori vabbè dai il rocket non è male però a me ma io mi sono fissato con ste nitro bumper anche il rocket sterram però c'era comunque di meglio tipo deadinator e altri cazzi eh eh hanno reso come ruote utilizzate per il bonus quella del team plendiput quella del team cortex e quella del boom buggy però nessuna delle tre c'ha il bonus completamente scollegate dal dal dai kart scelti anche dai kart scelti per questa meme ma perchè? esatto no da una parte si può definire il nuovo blu scintillante mhm anche lì c'è la combinazione di blu e rosa doveva vedere le... 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 i cosi al neon qua sono... versioni neon dei colori utilizzati da... dall'intraderse mhm in un certo senso o meno nel caso di quello di Emi e di... me... gumi mi pare no pure Lid quello di Lid quello di Vizzer è verde e viola proprio come... Nen quell'altro precedente eh si verde e viola, verde e giallo e... un po' d'azzurro mi ricordo quello di Isabella era blu scuro però non mi pare che ci sia un blu scuro de... come cazzo si chiama? de...corrispondente i neon si eh no non ci sta in effetti izzetru Per ogni motivo che non c'è Tauna Cirro Circenza secondo me Perché in quello scorso C'era stata Però allo stesso tempo Uno dice Allora cosa cazzo ci parli Cosa cazzo si chiama Fake Crash Ha tanti di quelle leggendari Fake Crash che mi sto dentro Per qualche motivo Ha ricevuto parecchio L'UV Buongiorno 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 6 8 2 3 più Eh 2 2 3 6 6 2 3 4 3 3 4 ho messo il treno a rotti i coglioni a rotto lucas la sottiletta più veloce del west la sottiletta è la hitbox di una tic tac una tic tac si, la shape di una tic tac l'auto slow nu nu plis ah sei stato a non colpire non si si mancava poco sei 80 uff giusto non si se li 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 Ah, del Daredevil. Daredevil. Un ruota tecnologica. Nice. Non si permette tutto, perfetto. E' un culo. Spiaccicato. I guess. Spiaccicato? Onda di velocità. Centro commerciale. Oh, i due adesivi di merda sono tornati dall'oltre combat. Niche. Ed è vuoto. Quindi hai terminato? Alleluia. Quanto farmerai prima di romperti il cazzo? Bello. Boh. Mi sono fermato a 40.000. L'altra volta penso che farò altrettanto. Più o meno. 40.000 o 50.000. Però qua dove gira. Non c'erò tutti i vincitori. Sì. Forza solo nei weekend. Quanto nei weekend sia arrivato? Sì. Nei weekend sarebbe... Quanto sarà al giorno? Quanto monete sarà al giorno? 6.000 o più o meno? 2.500 nei giorni normali. 5.000 nei giorni del fine settimana. Quindi 5.000 per... Potremmo dire nuovamente per te. Sì. Quando parte. Quindi 15.000 per quattro volte o meno. 60.000. Beh, sì te li ritrovi. Sì. Seems like a good deal. Accetto che probabilmente non farà questa fine. Per via del plus. No vabbè. Perchè ti romperai il cassa anche. Questo... No. Uff. Fammi vedere di cosa si che può. Cioè. Un frutto bumpa. Grazie. Le... Guarda cadendo normalmente ne perdi due. Quindi... Boh. Il gioco ti ha graziato. Le ma... Si. Mi ha graziato con... Un merdosissimo motore blu. Grazie. Grazie. Grazie a te. Giusto su Warframe dobbiamo pure andare a fare... Exploiter Orb. Che panno. Esatto. Zolaris United. Un dato d'ora guarda. Oh hell yeah. Mungi le mie polvere. Ma porco dio. Diceva proprio così. Mesh. Proprio come te lo ricordavi. Alla fine per oggi il culo me lo sono coperto. Ho messo il video di Pasadine e della pista nuova. Domani me ne sbatte il cazzo perché... Me ne sbatte il cazzo. Domenica tanto nessuno si mette su YouTube a vedere queste cose. La gente normale ha una vita. O così... Mi dicono. Lo inizio non è di. C'è un po' di tempo. C'è un po' di tempo. John Cena. Proprio. 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 Ma che bisdette sono caduto. Ma che bisdette. Pure. con tutto che ero respawnato si lo so gli iframe sono opzionali oddio effettivamente sto coso è diventato tipo uber hot rip fan è stato un dispiacere super f chi è che caga è il cazzo oddio mi dico è quella cosa ma chi è sdetta allora gl avvio 10 non c'è da quasi allora allora oggi è sabato sarebbe impossibile che sia quello in transito infatti uff ah è il tizio della caldaia è arrivato si perché praticamente sta casa sta accadendo a pezzi non c'è una cosa che non funziona che funziona è venuto nel mio mondo cade a pesos che è successo che è successo questa casa nel credo invernale per l'appunto e la caldaia non partiva il vicino barra ex proprietario di questa parte della casa era andato via e noi praticamente non potevamo né accendere i riscaldamenti né cuocere nulla bello quindi stavamo dentro casa con i giacconi e per cose qualche cosa dovevamo utilizzare uno dei quei fornelli da viaggio gli eschimesi praticamente esatto no qui invece sta caldaia è impazzita nel senso l'acqua non la riscalda manco per il cazzo però i termosifoni li accende anche in estate con tutto che sono messi off quindi proprio è fuori controllo si vuole cuocere madonna è bello che ora sto comunque morendo al freddo quindi che cazzo l'accenda fa? no guarda alla fine per fortuna c'è sto pc e la pc potrò e girano un bel po' di calore quindi ho la la stufa la stufa portatile ci sono fagate la stufa proprio cioè in estate ste robe sono capaci di aumentare la temperatura di due gradi praticamente che exciting gameplay qui tra mezz'ora ci stanno le sfide nuove credo che non sia cambiato qui se se il pit stop è all'una le sfide dovrebbero essere alle tre perché il pit stop è rimasto all'una per qualche motivo vedremo su giusto andiamo a vedere dal menu c'è ragione non avrebbe senso che anticipano le monete e non il co e poi soprattutto quando cazzo che finisce l'orario eh lo so ma metti che è duplicabile metti che è duplicabile io non ci spero però chi lo sa batteria altra qualità oh altra qualità altra qualità esatto nel senso che non è proprio l'originale keep keep away ricambio originale il premio tempo di restante un'ora e 29 allora sono alle 4 mi diamo zio scena di qua capo monitor k la morte la paura gioino dopo dici ok ancora mi sfugge il senso della cosa che ho detto quell'altro ieri 8d 9d avrà problemi non capisco che puoi utilizzare il tuo nickname per un tag di un di un cosa di un altro per me vive in un suo mondo dove pensa che alcune cose siano divertenti quando in realtà è cringe assoluto non lo so perché cringe mi sembra irrispettoso e basta appunto ma è scemo semplicemente non è fantasia senza usare cose che altri hanno creato quello ma se non c'è prova non di niente però se non è qui un motivo c'è e se non lo sarà per probabilmente la fine del plus mio che poi poi vaffanculo pure questo e via già già basically mi frate si è spostato il plus non ce l'ha più ma non ci gioca manco ma lei perché sta a pensare a quel gioco di merda anche però effettivamente lui pagava il plus per un solo gioco quindi era messa ancora peggio di noi un gioco di merda quello si però no ma quel video che ho visto ieri comunque se controllassi pure altri giochi esatto tipo personaggi ah no quello è senza multiplayer sento molti player quindi no però io no sarebbe cosa un po' berlangino e poi ancora ctr figuriamo se ctr muore il datamain diceva fino a maggio quindi spero che il gp di maggio sia l'ultimo così non devo più preoccuparmi vedete non andava avanti il plus che è messo non ho pure rotto il cazzo se invece finisce per essere quello il caso vabbè me ne sbatti i coglioni detto sempre però si la mossa dell'avere forzato la gente a fa le cose online un attimino è antipatica che testi se poi che uno si giochero online lo fixassero e lo rendessero meno rompicoglioncioso è possibile che io conisco sempre ultimo nel bad luck nel cosa nei potenziamenti mentre gli altri mi trovano 800 missi che mi fanno tutto rng tutto rng la merda tutto rng del cazzo del porco e del dio le mao tanto manca secondo l'orario di che secondo il timer tecnicamente dovrebbe essere finito 051 ti vuoi fermare no aspetta abbiamo perso 4 minuti con la tua customizzazione quindi ce ne sono altri due sicuramente neanche ci sta spera' ah si stavo modificando il video che dovrebbe usci più tardi che uno programma pure questo bello bello buon clucce buon clucce madonna oggi non c'è stocca la testa perché non ci sto con la testa perchè un gioco dovevi essere brain dead nooo eh appunto e allora uguale no però ce l'avevo bene ma prima di tutto devo sfruttare quel booster che ho comprato altrimenti sono solo ducati bruciati così a cazzo troppo però considera che quel coso il colpore dell'anzefamo poco perchè si arriva fino al massimo livello 10 o 11 perchè noi abbiamo un un luogo ben preciso dove fermarci e penso pure di ricordar quale onestamente sai? perlaps ma piano piano sto a fa mente locale quindi boh dimmi te io sto solo per un momento proprio un pochino mh perlaps immagino comunque 680 disuffering continuis Yes. E quindi sarà questa l'ultima per appese. Ok, i bulli. Iniziano le casche per non dire qualcos'altro. Full! Ok. Andiamo a uscire adesso. Quindi dovrebbe ritornare da qua. Per rispondere. L'arma X proprio. Come direbbe il saggio. Ah non so io. Ok. Ok. Dai, dammi il motore blu così. E come te sbagli. Viste sempre e solo il motore blu. Io non vedo più maschere da quando è uscito questo motore blu di merda. Esatto. Quello erano 100% finti di questa merda. No. Motore blu. Un boost significativo di velocità lo davano quando duravano. Questo boost blu è la cosa più inutile mai vista dai tempi di... dei tempi del cubo di ghiaccio e di cose di nitro kart. Secondo me. Dai che è? Non posso staccare il tiro che lo posso venire e te lo rimetto subito. Questo qui? Quando dici. Ah, eh, tra poco. Quando non lo dici. Ah ah. Eri su un TN. Ma dai! Aspè ma che... Sei casca... Vabbè che tanto dovrebbe essere finito, no? Yeah, 120 euro. Meno male, guarda, sta vaffan... Eh, arrivo su... Dovrei reinvitarmi. Sì, dobbiamo fare passaggi di cables. Cables and shit.